Non è curvo per cui vuol dire che era un recipiente abbastanza largo e hanno questo decoro che è più rustico, più semplice, ha una durata cronologica più lunga, per cui questo è tipico dell'età del bronzo. Una discarica preistorica a soli 50 metri da quella di Podere Rota nel comune di Terranova Bracciolini. Questa è la sensazionale scoperta che è stata fatta durante i lavori di scavo che vedete alle mie spalle e che riguardano la realizzazione delle casse di espansione del torrente Riofi. Lo scavo iniziato poche settimane fa e diretto dalla soprintendenza archeologica ha portato alla luce frammenti di recipienti ceramici, strumenti in selce e rari resti ossei di animali insieme a carboni. Siamo circa 2000 anni a.C. e sembra essere una zona di rifiuti, una discarica come il simile alle discariche di oggi dove si smaltisce il materiale frammentario, tutto il materiale di scarto. Sotto quello strato archeologico è stato rinvenuto uno strato sterile che adesso, come vedete, lavora la ruspa che lo toglie perché è abbastanza spesso e sotto c'è un altro strato archeologico che dobbiamo ancora indagare del tutto. Mentre nella Piana Fiorentina ci sono stati ritrovamenti similari, anzi diversi ritrovamenti similari, qui in Val D'Arno è il primo di questo tenore. Tra l'altro siamo in un periodo particolarmente significativo perché come sappiamo avevamo già avuto ritrovamenti di altro genere vicino alla zona del Tasso e oggi questo. Di fatto quando accadono e ci sono queste scoperte c'è sempre questo senso un po' di avventura quasi da bambini e quasi da adolescenti, quindi suscita grande curiosità rispetto a quello che avviene ma soprattutto un importante e significativo valore storico perché ci permette per l'appunto di ricostruire quelle che sono state le fasi di vita proprio in questa zona del Val D'Arno.